E allora amici di Calciopasso, dopo aver commentato una bella gara e dal punto di vista dell'intensità e dal punto di vista tecnico a pranzo con Bologna Sassuolo mi trovo a commentare una gara sicuramente finita con un punteggio bello rotondo ma non all'altezza di quella precedente quantomeno dal punto di vista qualitativo, giocate molto approssimative, il Cagliari sta vincendo a Torino 3-2 adesso siamo nel recupero, mancano 3 minuti, sicuramente è una vittoria d'oro per il Cagliari che non aveva fatto una grandissima partenza di campionato mi sembra soltanto un punto in queste prime tre gare e oggi con questa vittoria andrebbe a 4 considerando che poi alla prossima c'è il Crotone comincia a dare una riassestata al suo campionato sicuramente ha giocato una gara migliore rispetto a Artovino che a mio avviso pressoché è inguardabile soprattutto quando attacca, poco sviluppo offensivo, poca qualità là davanti il solo Gallo Belotti accanto a Portala Croce non può bastare mi sembra che è soltanto lui che ha segnato fino ad ora 4 gol 4 gol del Gallo Belotti oggi ne ha fatti due, soprattutto il secondo molto bello, ha caricato di sinistro comunque c'è anche una sistemazione difensiva approssimativa da parte del Cagliari adesso qui chi è Verdi che si è divorato il 3-3 se non sbaglio mi pare che sia lui, quindi assolutamente ripetibile non mi piace, dietro pressoché ridicolo per Torino e soprattutto poi se ci si mette pure Sirico che di solito è un signor portiere oggi ha fatto una vaccata, soprattutto sul secondo gol di Simeone la palla gli è sfuggita e allora è veramente nottefonda per quanto riguarda il Cagliari mi è piaciuto molto Nandels Nandels è uno di quei calciatori che dovunque lo metti ti dà il massimo attenzione, grandissima rovesciata del Gallo Belotti e salvataggio di Cragno anche oggi non mi è piaciuto molto Cragno sia sull'episodio del rigore sia sul gol di Belotti secondo me poteva chiudere un po' meglio lo specchio e adesso un pezzo forte del repertorio del Gallo Belotti la rovesciata estiva quella è proprio capito quando stai sulla spiaggia e fai la bicicletta e una grandissima parata di Cragno adesso si, ha salvato veramente il risultato con questa parata tra l'altro mancano pochi secondi al termine anche del recupero quindi Cagliari secondo me se l'è meritata la vittoria anche se non è che il Cagliari abbia fatto un calcio spumeggiante però quanto meno soprattutto sulla fascia destra con Nandez spesso ha impensierito la difesa inguardabile del Torino adesso aspettiamo gli ultimi secondi e poi andiamo in chiusura ed è terminata avevo dimenticato forse anche di dire questa azione è pessima a mio avviso da parte di Bonazzola grazie a tutti